Doveva essere la conferenza di servizi decisoria orientata al no all'autorizzazione alla discarica riceci e nel pomeriggio è infatti arrivata la bocciatura al progetto. Quella di oggi è stata però anche un'altra seduta in cui Aurora SRL ha presentato nuova documentazione che apre la strada possibili nuovi ricorsi nonostante il diniego sulla realizzazione dell'impianto di rifiuti nel territorio petrianese. Una riunione in via telematica che per l'occasione ha radunato le rappresentanze di tutti i comitati contrarie alla discarica riuniti sia presidio dell'ingresso dell'amministrazione provinciale. Quello che è accaduto stamattina è semplicissimo, come prevedevamo Aurora ha presentato nuova documentazione quindi per andare avanti, è già stato annunciato il ricorso quindi sappiamo che quella di oggi è una puntata ma la serie continua e avremo delle nuove puntate purtroppo. Puntata che confermerà il diniego ovviamente da parte della conferenza dei servizi e che però prelude appunto a un ricorso con nuova documentazione quindi con nuove riunioni, nuovi tempi e nuove decisioni da prendere. Stamattina sono stati presentati, mi hanno detto ulteriori documenti da parte della società che ha intenzione di fare questo impianto però come abbiamo detto basta, non è che noi possiamo rinviare per poi ripresentare documenti. Aurora procederà con una serie di ricorsi per cui noi siamo pronti e continueremo a far valere la nostra voce contro questo progetto che ricordo vuol nascere a poca distanza da Urbino che è una città di patrimonio dell'UNESCO e che verrà sicuramente devastata da un progetto di questo tipo anche a livello turistico, culturale e ambientale. E' chiaro che bisogna cambiare la governance della gestione dei rifiuti, abbiamo assistito alla riconferma del presidente di Marche Multiservizi da parte del Comune di Pesaro, non sappiamo come leggerlo, se è una conferma degli indirizzi che sono stati dati fino adesso o c'è stato un nuovo patto rispetto a una nuova visione. Noi vorremmo che Marche Multiservizi non desse la linea dei rifiuti in provincia, ma questo fosse un compito proprio della politica, delle istituzioni. Non ci illudiamo che tutto finisca qui, non hanno intenzione di ritirare il progetto e quindi in caso di bocciatura probabilmente presenteranno un ricorso e quindi la battaglia sarà ancora lunga. Devo anche sottolineare che da un punto di vista politico non c'è la volontà di cambiare le cose perché recentemente, due giorni fa, se non erro, il sindaco di Pesaro che è il maggiore azionista di Marche Multiservizi ha riconfermato il presidente di Marche Multiservizi. Non mi sembra che chi ci rappresenta da un punto di vista politico sia in sintonia né con i territori né con i cittadini e tantomeno sia sulla stessa lunghezza d'onda di quello che serve.